Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi ed oggi siamo qui ritornati su Brawl Stars in compagnia di Serena Salve E in compagnia di Kevin che come al solito ci saluta dal game perché non può parlare ma ci ascolta e ci carrierà Premetto immediatamente ragazzi che questo video lo sto registrando il primo dicembre, esattamente una settimana fa Cioè praticamente questo video dovrebbe uscire mercoledì 8, io lo sto registrando il primo dicembre Però non so effettivamente quando uscirà Però mi sto pre-registrando un sacco di video perché c'è un sacco di cose da fare e quindi nel dubbio ho detto ok me li pre-registro Detto questo ragazzi perché ho fatto sta premessa? Perché per me è appena uscita la nuova abilità stellare di Lola, Gioie e Dolori Che andrò a scioppare ed è molto interessante perché i proiettili del Lego di Lola ripristinano 100 punti salute a quegli alleati che si trovano nella loro traiettoria Che non è male in realtà, quindi vorrei provare a selezionarla Ora noi andremo a giocare la Lega dei Club e andremo a giocare scontro tra potenze Quindi dove ci sono i ban, le scelte eccetera eccetera Quindi non è detto che io riesca ad utilizzare Lola Però proprio per questo ci sarà Serena che farà da capitano E quindi andrà a bannare l'essere all'ultima a scegliere Tra me e Kevin non so chi sceglierà per primo, spero che sarò io Così almeno nel dubbio ci andiamo a prendere Lola Anche perché purtroppo la mappa nel momento in cui stiamo giocando adesso è rapina Gola dei Crota, 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 non lo so E non mi piace molto come mappa per quanto riguarda Lola Ma proprio in generale non credo sia un'ottima mappa da giocare Non mi piace proprio Detto questo ragazzi, io vi ricordo il codice creatore GGYT Tutto attaccato nel shop di Brawl Stars Fondamentale per supportarmi Lasciando un bel mi piace, iscrivetevi al canale se è che si è fatto Let's go! Dai ragazzi, vediamo un po' che cosa riusciamo a combinare Uh, non so quanto possa workare qui Lola Ma sono io il primo a scegliere Allora amore, banna Semino Perché il signor Semino qui ragazzi contro i long e roba un po' così è da bannare Certo io potrei, eh certo io potrei prendermi Tara eh Allora vediamo un po' loro con cosa vanno Vediamo un attimino loro con cosa vanno ragazzi Perché io in realtà potrei vincere, no no no, vincere Isi no Però potrei giocare Isi con Tara Però no regà dai, andiamo con Lola Abbiamo detto che proviamo Lola, proviamo Lola Sì stecca ci sta, che è Vediamo un po' loro Dynamike e Rosa Eh mi devo mettere io mid con voi due così No no no, io mi devo mettere mid Ah ti metti tu? Sì sì, metto io mid E in realtà puoi mettere ambra Per tenerli lontani loro Dici? Sì, per tenere lontana Rosa, tenere lontana Ems Non mi convince molto Cioè il top sarebbe stato Tara Però non so se te la fidavi a usare Tara Che è comunque un po' particolare Ambra secondo me Sia che c'hai Ems Sia che c'hai Rosa Se ti tiene a distanza e non ti fai avvicina troppo Devasti amore Devasti Ok Allora se il Dynamike non è un fenomeno Se il Dynamike non è un fenomeno Potremmo farcela anche abbastanza facilmente Perché con le comp penso siamo Un po' più avvantaggiati noi ragazzi Però se il Dynamike è un fenomeno Regà Ecco proprio quello devi evitare Eh lo so amore ma mi ha rallentato Anche se ero lontana Non è colpa mia Ok perfetto Direi che è partita molto bene Questa partita Ecco perfetto Mi sa che il Dynamike è bello arrabbiato Mi sa che il Dynamike è bello arrabbiato Ma anche noi lo siamo Quindi vado a far fuori la Ems Metto l'ombra Devasto la Rosa Eh però le gemme sono rimaste a loro Mannaggia Ho lasciato con uno scudo di vita il Dynamike Bravissimo che è bravissimo La Rosa dov'è eh Eccola Mamma mia regà quanto fa male Lola Quanto fa male Lola ragazzi La Rosa gioca tutti i centri Che cavolo vado a fare sulla lane Sì sì no certo Se giocano così sì Quando spona Ok perfetto Vai vai tieni sotto controllo quella lane Che è Ok perfetto Ok abbiamo intanto un po' il Dynamike O no Eh penso che No ma ha fatto fuori anche a me Però adesso dovremmo rinascere un attino tutti quanti Vai amore prendile tu Ok Allora Fatta fuori la Ems Che però Ha quasi fatto fuori la mia ombrettina Rosa l'abbiamo rifatta fuori C'è solo il Dynamike C'è solo il Dynamike Ok Ok c'è solo il Dynamike Easy Ok regà Non sarà facile Perché loro giocano belli compatti Belli tranquilli Quindi Non sarà per niente facile Poi c'è la Rosa che Da un momento all'altro Può ribaltare la situazione Però Però la prima Ce la siamo portata a casa Ragazzi Lola è veramente veramente devastante Regà È veramente devastante Ragazzi È incredibile Ok Bravo che è Perfetto È da Kevin la Rosa Sì è da Kevin Rip l'ha preso Eh no La Rosa Eh no Te la lascio che è La lascio a te Così vado ad aiutare un pochettino Serena al centro Ok Fatta fuori la Ems Eh sì Ok 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 Fatto 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 Ma la Rosa dove è andata Non lo so Ma Io voglio fare una cosa Tolgo subito la Ems così Dov'è la Rosa Eccola Ok eccola Il Dynamike Che cosa ha fatto qui È venuto addosso così Un po' a caso Ok bravo amore Ok loro hanno perso un po' Di stabilità Nel senso che li vedo vagare un po' a caso Però io ho paura della Rosa Nei cespugli Ok Occhio amore Occhio amore Ok presa l'ultima Attenzione che Ems Fa un bel po' di danno Se ci piglia Mamma mia ragazzi Che devasto Lola Eh bravo che è Controlla lì Controlla lì Controlla lì E attenta amore Sì ha preso l'ombra Ok let's go Ok non è stata facile Non è stata facile Ah tra l'altro regà Vabbè che tanto Sto video ribadisco L'ho registrato una settimana fa O più di una settimana fa La prima lega di club L'abbiamo vinta Siamo arrivati i primi Stiamo già giocando la seconda Siamo in bronzo 3 Spero che per quando vedrete questo video Saremo riusciti a scavallare anche la prossima lega Però siamo in pochi Questa lega ce la stiamo giocando in 21 Spero che in questi giorni Riesca a fare un po' di acquisti Per il club Diciamo così Spammerò un po' sui social il club Eccetera eccetera Detto questo possiamo rimettere pronto Può anche capitare una mappa Dove non c'entra niente Lola Oddio non so se può workare qui Lola Ah chi sceglie per primo noi Eeeh Allora amore Banna Tic E io ragazzi mi prendo Mi prendo coso Mi prendo Stecca A sto punto E così almeno non lo lasciamo a loro Non sarò Master Stecca ragazzi Io però Più o meno Loro Frank hanno bannato Ok Eeeh Sì E sì Ok direi così Va bene Va bene Va bene Va bene Uh Jesse E Dynamike E Ok Sì prova bombardino Sì ci può stare Eh oddio Qua regà potrebbe non essere facile Eh anche Colt Potrebbe non essere facile questa Però ragazzi ero un po' obbligata a prendere subito Stecca Perché Perché comunque Devastante in sta mappa È devastante Vediamo 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 Di nuovo il Dynamike contro Eh sto Dynamike sia prima che adesso Insomma Siamo attenti Allora io direi Kevin vai al centro Tuo amore vai a destra Che c'è un po' di spottini per bombardino E io me ne vado a sinistra Oddio forse Vabbè In realtà era uguale per il bombardino Ok Ho vittato un po' la Jesse Vattato il colto Ok Io mi sto tenendo la Jesse Quel Dynamike Eccolo Uh L'ho ucciso con dei Colpettini Che non mi sarei nemmeno aspettato Ok Bravissimo Chemo Mi si è messa davanti la La Jesse No Il Dynamike Eh Recupero vita E riparto subito Non se l'aspettava Il Dynamike Vado di una ulti Devastante Buonissimo amore Grazie mille Perfetto Eh oh La Non so chi è andato Sotto torre da noi Però noi qua Li continuiamo a far danno Che ce frega Sì 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 Chi se ne Oh però attenzione Quanto danno aveva fatto Eh stiamo attenti Avevano fatto un 34% In mezzo secondo Ce la siamo un po' rischiata Però vabbè Stavolta era abbastanza A vantaggio nostro Quindi ci poteva stare Però stiamo attenti Che poi tra l'altro È sceso nella mia lane Perché io purtroppo M'ero dovuto spostare Per colpa del Dynamike Sono tutte e due da te amore Sì sono tutte e due qui Però il colto l'ho ucciso Perché ho il vantaggio Dei rimbalzini Grazie amore Eh Jesse sta andando Eh Jesse è andata A fare un po' di danno L'ho uccisa però L'ho uccisa L'ho uccisa Allora Sto lasciando il colto Da destra Sì L'ho un po' hittato No 52 di me dal Dynamike È morto Allora il colto No Speravo di ucciderlo Con sta ulti Aia Aia Eh sta volta Sono stato un pollettino io No Eh Qua ci fa male Eh Ho provato a curarmi Ma non ce l'ho fatta in tempo La torretta l'ho fatta fuori Ma Con sto fatto che ormai Non si rinasciano tutti i colpi Dai No Dai Ma fa sempre la cosa Contraria che mi aspetto Sto colto Ragazzi Non sono mai riuscito A predictarlo Eh Dove è andato il colt Ok Su No È il Dynamike Mi sa Dove ho difendere Vabbè Non ci facciamo In tare Da 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 Jessie Perché poi rimbalza No Mi ha Paralizzato Fermatelo 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 Ok Meno male non l'ha presa Uso il gadget Rimaniamo qui a far pressione Ditemi che state difendendo Dai 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 che è andata Dai dai che è andata Dai che è andata Let's go con 1% Madonna Oddio Come l'avevo vista male Eh ma infatti era persa Questa era persissima Che poi loro sono riusciti a chiuderci bene Ma Mamma mia Grandissimi ragazzi Grandissimi Grandissimi Beh è il top Riuscire a vincere Due volte Lo scontro tra potenze È sicuramente meglio Piuttosto che Andare a giocare La mappa Però ovviamente La mappa Ti permette di sapere già Che mappa andrai a giocare Ti fai tu una tua comp Ed è un po' più facile magari Però ecco Top Abbiamo iniziato veramente la grande Non so se andremo a shoppare Anche stavolta Dei biglietti gold Perché come vi dicevo ragazzi Purtroppo questa volta abbiamo Uno svantaggio numerico Vedete qui Abbiamo uno svantaggio numerico A livello di Di biglietti Perché purtroppo Non siamo in 30 Magari invece Negli altri club Sono in 30 Vediamo un attimino Dove si vede? Non me lo fa vedere? No che li devo contare? Vabbè no Me lo dice qua 28 Noi siamo a 21 In questa lega Sì 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 28 28 L'ho visti Quindi niente regà Con un 1% Con l'ola devastante Io vi ricordo Il codice creatore GGYT Tutto attaccato Nello shop di Brawl Stars Fondamentale per supportarmi Iscrivetevi al canale Se ancora non lo avete fatto Lasciando un bel mi piace Ringrazio ovviamente Kevin Ringrazio ovviamente La mia ragazza Let's go Fino adesso siamo ancora imbattuti Però credo che in questa lega Già ho visto che il livello Si è un po' alzato Forse una prima sconfitta Potrebbe arrivare Lo scopriremo solo Nei prossimi episodi Per noi tutte ci troviamo domani Con un prossimo episodio Qui sul mio canale Ciao ragazzi Ciao bu